Musica Novara Sassano, fine settimana drammatico, perde la vita un giovane di Sassano in un incidente stradale nel Novarese. Sala Consilina, sabato scorso convegno su Vallo di Diano tra crisi e prospettive, l'economia del territorio analizzata dai protagonisti. Politica ad Auletta, la Lega nella lista civica di Pietro Pessolano con Luigi Vignoli. Capaccio Pestum, ondata di furti, vittima anche il direttore del Parco Zuck Trigel. Sport Calcio, i vedetti del weekend, favola Buccino Volcei, male il Valdiano. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento serale con l'informazione di Uno News. Apriamo purtroppo con la cronaca domenica segnata dal dolore per la scomparsa di un giovane 23enne di Sassano. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, un incidente stradale verificatosi nel Novarese si è rivelato fatale per il giovane. Vediamo. Comunità di Sassano sconvolta per la terribile notizia diffusasi nella mattinata di ieri che ha raccontato della drammatica scomparsa di un altro giovane che ha perso la vita sull'asfalto. Il Vallo di Diano piange per quanto accaduto al giovane Armando Petrillo che nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi a Borgo Manero, in provincia di Novara, mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. L'incidente si è verificato poco prima delle tre di notte ed ha coinvolto la Ford Fiesta sulla quale viaggiava il giovane di Sassano insieme ad un amico che era la guida della vettura. Secondo quanto emerge, pare che il ragazzo al volante abbia perso il controllo del veicolo che, sbandando, ha prima sfondato una recinzione e successivamente si è capovolta lungo l'arteria stradale che conduce a Cureggio, dove abitava il 23enne di Sassano, ospite di alcuni parenti. Armando Petrillo, infatti, si era trasferito da poco in Piemonte per motivi di lavoro. La notte scorsa, il drammatico incidente. Immediato l'intervento dei soccorritori con i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigi del fuoco, che si sono recati sul luogo del violento impatto, dove purtroppo hanno dovuto constatare il decesso del giovane di Sassano morto sul colpo. I caschi rossi hanno dovuto faticare non poco per estrarre i giovani dalle lamiere. Solo ferite per il ragazzo alla guida dell'auto che è stato trasportato subito presso il vicino ospedale. Sono in corso ora le indagini per cercare di capire l'esatta dinamica che ha poi portato al terribile incidente, rivelatosi fatale per il giovane sassanese. Un'intera comunità sconvolta dalla tragica notizia. Armando Petrillo, infatti, era ben voluto da tutti anche per il suo spirito allegro e socievole e costretto ad emigrare per poter lavorare, ha poi perso la vita in tragiche circostanze. La salma del ragazzo rientrerà a Sassano nei prossimi giorni. Si attende infatti il suo rilascio in attesa della decisione in merito all'autopsia sul corpo del ragazzo. Successivamente sarà fissata la data del funerale. Cambiamo argomento, parliamo dell'economia nel Vallo di Diano. Sono stati diretti interessati i protagonisti dell'incontro sull'economia proprio del territorio che hanno parlato di quanto sta accadendo ed in che modo va superata la crisi nel territorio valdianese che risulta anche tra le aree più colpite per la chiusura di numerosi esercizi commerciali. Sabato scorso, grazie al convegno organizzato dall'Osservatorio europeo per il paesaggio presieduto da Angelo Paladino, è stato possibile parlare nel dettaglio del Vallo di Diano tra crisi e prospettive con il tema analizzato da chi vive il territorio e la sua economia. Vediamo. Sala Consilina sabato scorso ha ospitato un incontro per discutere dello stato dell'economia nel Vallo di Diano. L'iniziativa promossa dall'Osservatorio europeo per il paesaggio presieduto da Angelo Paladino è stata occasione per presentare dati non proprio confortanti sulle attività commerciali del territorio con numeri in calo rispetto ad altre realtà. Siamo l'unica zona in controcorrente col dato provinciale. In provincia nel 2018 le imprese sono cresciute di numero, anche se meno del 2017. L'unica zona dove le imprese non sono cresciute è il Vallo di Diano. Quindi il numero degli imprenditori invece di aumentare è diminuito. Questo è un allarme che ci deve preoccupare. Stasera io ho voluto che i protagonisti, gli imprenditori, l'associazione di imprenditori, Valentino Di Brizia e Cono De Paola per la Confindustria, le banche, Michela Albanese per le banche, le start-up con Massimo Burzo, fossero presenti insieme con il consigliere regionale Piccarono per vedere insieme come il pubblico e il privato possono dare una mano per uscire da questa situazione di crisi. L'incontro ha visto la presenza di diversi relatori che sono anche protagonisti dell'economia del territorio come il presidente dell'associazione imprenditori Vallo di Diano, Valentino Di Brizia, che ha sottolineato come il campanilismo, unito alla burocrazia sfissiante e all'assenza di infrastrutture, rendono sempre più complicato il lavoro di chi vuole investire sui territori. Un discorso condiviso dal direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, che ha sottolineato come sia necessaria una maggiore coesione allontanandosi da quel percorso pensiero campanilistico intrapreso. Nonostante le difficoltà, qualcosa si muove, come sottolineato dal sindaco di Sala Consiglia, Francesco Cavallone, vista la prossima apertura di quattro esercizi commerciali sul territorio salese. A Sala Consiglia è stata individuata nella zona sud del nostro territorio un'area commerciale, un'area artigianale, industriale nell'area nord e credo che Sala Consiglia ancora abbia il suo appello all'interno del nostro territorio. Al di là delle difficoltà, soprattutto nel centro, che per una scelta personale di molti commercianti non è più frequentato perché hanno preferito andare nelle due zone periferiche, però io voglio anche sottolineare che a distanza di qui a poco tempo, al centro di Sala Consiglia, si aprirà il punto pasticceria Peccati di Gola di Tropiano e soprattutto quello che io voglio maggiormente sottolineare, anche il punto lettura della Mondaduri. Credo che si sta andando verso una rinascita del nostro territorio. Devo anche dire che la nostra zona industriale artigianata, nell'uscita dell'autostrada, si sta espandendo con una serie di attività che si stanno aprendo ad altri che stanno costruendo e stanno venendo soprattutto persone che non sono del nostro territorio. Presenti inoltre al convegno anche Massimo Burzo, responsabile del centro formazione Socrates, Aurelio Mango, commercialista, e Cono De Paola, presidente del raggruppamento interesse territoriale del Valoridiano. Le conclusioni sono state affidate all'Onorevole Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, che ha parlato dell'importanza che le aree interne hanno per l'ente regionale. Il nostro progetto per le aree interne, con i fondi della Comunità Europea e della programmazione unitaria, attraverso anche il coinvolgimento dei sindaci e delle comunità montane, è servito innanzitutto a questo, a combattere lo spopolamento, a ridare fiato alle attività economiche, ma anche il piano di sviluppo rurale, attraverso il premio di primo insediamento, le attività agricole sia di investimento che le misure a superficie servono a questo. E però è importante cambiare marcia rispetto al discorso delle aree interne, quindi mantenere il presidio dei servizi. Abbiamo questa importante scelta fatta anche sull'ospedale di Polla, come idea di primo livello, che consente di guardare al futuro con fiducia, perché significa che devi mantenere per forza dei servizi sanitari minimi e non li togli più. E quindi anche la prospettiva di non dover combattere ogni momento, perché viene meno un reparto, viene meno. E andiamo avanti. Il vento che si è battuto forte questa mattina ha provocato ancora una volta danni, facendo registrare la caduta di un albero in località San Raffaele a Teggiano. Un'antica quercia di grosse dimensioni posta lungo il viale della località, infatti è stata sradicata dalle intense folate di vento, crollando all'interno di un'abitazione posta nei pressi del luogo. Solo per un caso fortuito non si sono registrati i feriti, anche se i danni subiti dalla proprietà privata risultano comunque ingenti. Pare infatti che la quercia nella violenta caduta abbia rovinato gran parte del giardino danneggiando, anche su pellette riposizionate nell'area. A ciò si aggiungono anche i danni subiti dalla rete delle comunicazioni telefoniche. Nella caduta infatti la quercia ha trascinato con sé anche i cavi di collegamento della rete telefonica che sono stati tranciati dalla forza dell'albero con il palo che è finito all'interno del giardino dell'abitazione privata. Fortunatamente non si registrano feriti anche perché al momento della caduta della grande quercia non si trovavano nelle vicinanze né auto né persone. Tanta però la paura e diversi i danni. Difficile anche la rimozione dell'albero per il quale si è reso necessario l'utilizzo di una ruspa visto il peso e la sua grandezza. Il forte vento inoltre ha provocato anche altri danni tra cui sono stati danneggiati i lampioni della pubblica illuminazione. E andiamo avanti, ci spostiamo a Buonabitacolo. Giorni fa l'atto di vandalismo nella piccola cittadina del comprensorio con la distruzione di un tavolino pubblico. Ora arrivano le riflessioni del comitato cittadini vigili. Vediamo. Qualche giorno fa a Buonabitacolo sono stati distrutti un tavolino ed una sedia in pietra situati sotto il chiosco dell'ambulatorio. Un chiaro atto di vandalismo subito denunciato via social dal primo cittadino Giancarlo Guercio amareggiato per l'accaduto e pronto ad approfondimenti e denuncia contro ignoti. Ora arrivano le riflessioni dei cittadini vigili che, oltre a condannare il gesto, fanno delle riflessioni sui giovani del posto. Soprattutto si interrogano su cosa si stia facendo effettivamente per i ragazzi del paese visto che problematiche evidenti esistono e vanno risolte. Che fino a fatto esordisce l'associazione, lo sportello del cittadino che l'amministrazione aveva promesso dopo l'omicidio di un giovane da parte di un suo coetaneo? Non si sta facendo più nulla. I lavori della scuola sono fermi da troppi anni e la piscina è abbandonata e degradata. Per non parlare degli impianti sportivi distrutti. I ragazzi di buon abitacolo non hanno nessuna opportunità di svago e di lavoro e sono costretti ad andare via. Noi, concludono i cittadini vigili, come cittadini e genitori siamo molto preoccupati. Solo grazie alle associazioni si fa ancora qualcosa, visto che l'amministrazione non si occupa più dei giovani e del paese. Un chiaro messaggio a sindaco e amministratori con la speranza che, oltre a denunciare fatti ignobili, venga fatto anche qualcosa di concreto per evitarli. Non una difesa degli autori del gesto, ma non una ricerca del perché si arrivi a tanto. Noia in civiltà sicuramente, ma non solo. La sanità, mercoledì prossimo 13 febbraio alle ore 17.30 presso il comune di Polla, si terrà una riunione tra tutti i sindaci del territorio che si confronteranno sul piano ospedaliero regionale e sul piano di interventi in materia di edilizia sanitaria. L'incontro, voluto fortemente dal sindaco Rocco Giuliano, è stato deciso perché è necessario, come dichiara il primo cittadino, per concordare proposte in merito alla riorganizzazione e alla riqualificazione dell'offerta sanitaria del nostro presidio ospedaliero, in quanto l'ASL dovrà procedere alla predisposizione e approvazione dell'atto aziendale per il quale è opportuno costituire un tavolo tecnico data la mancanza del comitato dei sindaci dell'ASL. Andiamo avanti, torniamo a parlare di economia sull'inserto mensile del sole 24 ore plus 24, si attiva una nuova menzione per la banca Montepruno che viene citata per la sua propensione ad emettere titoli Trem Bond. Vediamo. La banca Montepruno, tra le pochissime banche italiane che stanno apportando un grande contributo all'economia del meridione grazie all'emissione di Trem Bond. Un'azione che porta l'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese a ricevere una nuova menzione a livello nazionale grazie all'articolo pubblicato sull'inserto mensile plus 24 del sole 24 ore del mese di febbraio. Un articolo che dal punto di vista nazionale è però duro nei confronti dei grandi gruppi bancari che hanno dimostrato di non aver ben compreso il valore dei Trem Bond. Sono state le banche dei territori a comprendere invece i vantaggi di questi titoli di risparmio per l'economia meridionale e tra queste compare la Banca Montepruno. I Trem Bond, come si legge, sono titoli emessi con l'obiettivo di ridurre le disparità tra Mezzogiorno e altre aree del Paese. Dei potenziali 3 miliardi a disposizione ne sono stati utilizzati solo una minima parte e tra gli istituti bancari che hanno condiviso l'iniziativa compare la Banca Montepruno. Ad emettere i Trem Bond in questi anni, si legge, sono state per lo più le piccole realtà radicate sui territori, in particolare nel 2018 solo tre BCC, quali la BCC La Riscossa, la Banca Montepruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino e la BCC Campania Centro, utilizzando questo strumento per 31,5 milioni di euro. La nostra banca, commenta il direttore generale Michele Albanese, si è meritata ancora una volta la citazione sul Plus 24 di febbraio 2019 del Sole 24 Ore. Nello specifico, l'autore fa notare come la nostra banca sia una delle poche realtà in Italia che abbia proposto alla propria clientela obbligazioni Trem, caratterizzate da un'aliquota fiscale agevolata del 5% ed ideati nel 2011 per finanziare le piccole e medie imprese e i progetti etici delle regioni del Mezzogiorno. Duplice merito, a mio giudizio, per il nostro istituto, continua Albanese. Primo, il merito di guardare con attenzione al tessuto delle piccole e medie imprese del nostro territorio. Secondo, scegliere di collocare presso la nostra clientela non solo prodotti ad alto margine, tipico atteggiamento delle grandi banche, ma soprattutto strumenti finanziari capaci di ottimizzare il rendimento e il peso fiscale per l'investitore. E apriamo ora con la politica. Ieri mattino in un incontro pubblico la Lega di Auletta ha presentato i candidati delle prossime elezioni amministrative che entreranno a far parte della lista del sindaco uscente Pietro Pessolano. Il nome certo al momento è quello di Luigi Vignolo. Vediamo. Ad Auletta ci si prepara per le prossime amministrative. La popolazione sarà chiamata alle urne prossimamente per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Così come accadrà a Caggiano, Casalbuono, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro Altanagro e San Rufo. Dappertutto iniziano a muoversi i primi passi verso la formazione delle liste, che rimarranno dei prospetti, in numero e composizione fino all'ultimo minuto, come nella normale logica dei contesti preelettorali dei piccoli comuni alle prese con le liste civiche, quindi spesso liquide. Ad Auletta iniziano a profilarsi le prime certezze. Ieri mattina, in un incontro pubblico, la Lega Locale, guidata da Pietro Gaito, ha presentato i candidati che entreranno nella lista civica capeggiata dall'attuale sindaco Pietro Pessolano, che è alla sua seconda sindacatura e può ripresentarsi per la terza volta. Il nome certo è quello di Luigi Vignoli. Se dovesse esserci bisogno di ulteriori supporto, ha dato come disponibili i nomi di Filippo Promolla, Giuseppe Pessolano e Rosa Maria Soldovieri. Ieri mattina, presso la Casa delle Parole, il circolo locale era sostenuto da tutti i coordinatori cittadini del comprensorio e da una delegazione provinciale del partito arrivata da Salerno. Dopo i saluti del sindaco Pessolano, i vari interventi sono stati utili a tracciare la linea generale da tenere nel solco della narrazione di Matteo Salvini su sicurezza, vicinanza al territorio, valorizzazione delle eccellenze locali. Voglio dire grazie ai candidati della Lega alle prossime elezioni comunali, ha dichiarato Gaito nel suo intervento. il vostro contributo sarà espressione di lealtà, professionalità e capacità. Saremo a sostegno dell'amministrazione Pessolano nel segno della continuità e del buon governo. Oggi un segnale tangibile di affetto sono commosso per la straordinaria partecipazione. Ancora politica parliamo della provincia di Salerno il presidente della provincia Michele Estrianese sta lavorando per l'assegnazione delle deleghe in seno al consiglio provinciale Guzzo tra i possibili destinatari degli incarichi. Intanto Giuseppe Ruberto pare sia stato scelto per il ruolo di capogruppo in seno al consiglio provinciale per il partito di Forza Italia come annunciato dallo stesso consigliere di Corleto. Nota la composizione del nuovo consiglio provinciale ora si resta in attesa di conoscere chi saranno gli assegnatari delle deleghe del presidente della provincia Michele Estrianese contrariamente a quanto si ipotizzava il Vallo di Diano potrebbe non essere del tutto orfano di rappresentanti dalle ultime indiscrezioni e come è prevedibile il presidente Estrianese nell'assegnare le deleghe potrebbe assegnare un incarico anche al consigliere eletto tra le file del partito socialista Giovanni Guzzo di Novivelia che all'indomani delle elezioni ha assicurato il suo impegno anche a favore del Vallo di Diano un ulteriore aiuto a difesa degli interessi anche del Vallo di Diano oltre che di tutta la provincia più a sud di Salerno arriva dalle parole del consigliere eletto di Forza Italia Giuseppe Ruberto di Corletto Monforte che sul suo profilo ha annunciato la decisione del partito di assegnare a lui il ruolo di capogruppo nel Consiglio Provinciale ringraziando il primo eletto celano che ha appoggiato tale decisione Ruberto nel suo post ringraziando quanti hanno sostenuto il suo impegno e la sua persona in occasione di questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale ha parlato dell'importanza del suo risultato che ha consentito ad un consigliere di un piccolo comune appartenente alla prima fascia di poter sedere in Consiglio Provinciale un risultato possibile grazie al determinante supporto arrivato da sindaci e consiglieri comunali di città medio-grandi che hanno dimostrato di credere in lui imponendo all'eletto un grande senso di responsabilità da trasformare in impegno di edizione e ascolto per cercare di raggiungere un risultato di crescita e di sviluppo dell'intero territorio provinciale nella consapevolezza che lavorando per una crescita complessiva ed omogenea tutti potranno trarne vantaggio lavorerò promette Ruberto con forte senso di responsabilità con equilibrio ed armonia promuovendo un percorso politico amministrativo ed istituzionale capace di favorire la crescita dell'intera provincia di Salerno Giuseppe Ruberto nel suo posto oltre a ringraziare quanti lo hanno sostenuto i candidati della lista che con la loro presenza e il loro impegno hanno consentito al partito di Forza Italia di ottenere il secondo seggio ha voluto anche dedicare un pensiero ai cittadini di Corletto grazie scrive in conclusione Giuseppe Ruberto alla comunità di Corletto Monforte che da ben tre mandati sostiene il gruppo di maggioranza dell'amministrazione comunale di cui mi onoro di far parte cambiamo un argomento andiamo a Tegiano nuovo appuntamento formativo per l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina sarà la nuova legge di bilancio e il tema da approfondire insieme al decreto fiscale collegato alla legge e che saranno trattati in occasione del nuovo incontro formativo in programma giovedì 14 febbraio a partire dalle ore 9 fino alle ore 13 presso l'aula delle conferenze del complesso della Santissima Pietà di Tegiano la giornata di studio si aprirà con i saluti del presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina annunzio ritorto a seguire sono previsti gli interventi di Angelo Pagano delegato alla formazione per l'ordine di Sala Consilina e la relazione di Ernesto Gatta rappresentante del Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili presso la Federazione europea commercialisti per l'Italia la partecipazione al convegno prevede anche il riconoscimento di 4 crediti formativi nell'ambito della programmazione di formazione professionale continua e con questa notizia ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria torneremo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie restate con noi ben tornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a Capaccio ancora furti a Capaccio Pestum ai danni delle auto parcheggiate nei pressi del parco archeologico a farne le spese nei giorni scorsi anche il direttore Gabriel Zuchtriegel vediamo Torna ad attualità lo spiacevole fenomeno dei furti nelle auto dei turisti parcheggiate nei pressi della stazione ferroviaria e nell'area archeologica di Pestum vittima questa volta proprio Gabriel Zuchtriegel il direttore del parco pestano che in un post sul suo profilo facebook ha pubblicato la foto della sua auto danneggiata dai ladri con il seguente duro quanto laconico commento questa volta è toccata a noi vetro della macchina rotto è accaduto tra la stazione di Pestum e Porta Sirena niente di che ma che diranno i turisti che subiscono episodi del genere e si portano via questo ricordo del sito un problema purtroppo ricorrente quello dei furti nelle auto di turisti che nonostante numerosi arresti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli non accenna ad arrestarsi arrecando non solo danni ai malcapitati visitatori ma anche all'immagine della città dei templi dove da tempo i residenti invocano l'installazione di telecamere di videosorveglianza nell'aria ed intorno all'antica cinta muraria per reprimere e scongiurare il fenomeno torniamo a teggiano nello scorso fine settimana l'istituto di istruzione superiore pomponio leto ha celebrato la giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe promossa dalla sezione interact che ha sede proprio presso la scuola di teggiano nello scorso fine settimana l'istituto superiore pomponio leto di teggiano ha celebrato la giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe uccise per mano delle milizie di tito durante e subito dopo la seconda guerra mondiale e dell'esodo istriano Giuliano Dalmata in seguito al trattato di pace di parigi del 10 febbraio 1947 una tragedia tutta italiana troppo a lungo minimizzata relegando le vittime ai bordi della storia hanno pagato lo scotto di averla vissuta dalla parte sbagliata da alcuni anni però è stato squarciato il velo di oblio su quegli eventi drammatici e se ne parla in occasioni dedicate come avvenuto a teggiano l'iniziativa al pomponio leto è stata promossa dalla sezione interact che ha sede proprio nella scuola si è avvalsa del contributo della professoressa Anna Maria Francesca Totaro e della presenza del dottor Giuseppe Morello nipote dell'agente di polizia di stato di cui porta il nome infoibato nel 1945 dopo essere stato catturato dalle milizie titine presso la caserma di Monfalcone a fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico Rocco Colombo dopo i suoi saluti si sono succeduti gli interventi del presidente della sezione inter Vallo di Diano Ernesto Bianchino del presidente del Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano Antonello Rivellese le conclusioni sono state affidate al governatore del distretto 2100 del Rotary Club Salvatore Iovieno che si è complimentato con i ragazzi per l'iniziativa è importante ha sottolineato sottoporre alla riflessione dei giovani questi momenti della nostra storia affinché gli orrori del passato non abbiano mai più a verificarsi noi ha dichiarato invece il dirigente Rocco Colombo siamo fermamente convinti che solo lo studio renda davvero liberi più si è ignoranti e più è facile essere manipolati le dittature nascono dall'ignoranza che è l'anticamera della violenza e la violenza genera sempre altra violenza per questo pensiamo che la scuola debba approfondere il massimo delle sue energie per fare in modo che i ragazzi conoscano gli orrori del passato li studino e li analizzino con la speranza che possano contribuire a non risvegliare mai più i sentimenti di odio che hanno prodotto i campi di concentramento i gulag e le foib lo spettacolo divertente molto apprezzato dal pubblico il quinto appuntamento della rassegna nell'ambito della rassegna teatrale teatro a casa Marone a salire sul palcoscenico la compagnia salernitana la ribalta con la commedia il papocchio sabato scorso un'altra divertentissima serata a Monte San Giacomo risate e ancora risate per il quinto appuntamento di teatro a casa Marone con la commedia il papocchio di Gino Bardese per la regia di Valentina Mussaro a portarla in scena gli attori della compagnia salernitana la ribalta bari sketch a fare da cornice all'atto principale che ha visto protagonista una coppia alle prese con la difficoltà talio presunta e le trovate stravaganti di lui per non deludere moglie e suocera il filrugge di tutti gli atti è l'essere stati la quintessenza della commedia degli equivoci molto apprezzata dal pubblico in sala per la sua ironia disinvolta anche se in veste ironica rivela Gino Bardese il papocchio denuncia come gli uomini pur di avere siano disposti a calpestare ogni principio di vita sana ed equilibrata una scena finale inaspettata e apparentemente fuori contesto un breve video di alcuni eventi tragici contemporanei ha poi chiamato il pubblico come era nelle intenzioni dell'autore ad un momento di riflessione ribadendo il messaggio che il teatro non è solo divertimento la sedicesima edizione di teatro a casa Marone prosegue senza sosta sabato 16 febbraio con i ragazzi di Sant'Arsenio ieri, oggi e domani e la commedia Tonino Cardamone giovane in pensione Per quanto riguarda invece le notizie sportive come ogni lunedì facciamo il punto sui risultati delle gare disputate nel fine settimana ci dice tutto Federico D'Alessio Un'altra giornata di campionato è volta al termine ed è già tempo di verdetti tra conferme e delusioni male il Valdiano in eccellenza almeno per il risultato gli uomini di mister Pasculli disputano una gara coraggiosa sul campo del Sant'Agnello abile a sfruttare le poche sbavature avversarie i primi 45 minuti di gioco infatti si concludono con il vantaggio azulgrana firmato dal funambolico Ducurè con un preciso tiro a giro poi il ritorno dei Biancazzurri che trovano il pareggio al ventesimo con Mosca per poi firmare il sorpasso con Liguori un quarto d'ora dopo morale non altissimo per il Valdiano ma quantomeno tutte le altre concorrenti alla salvezza hanno perso in promozione invece continua la favola del Buccino Volcei che sbanca in trasferta il comunale di Ponte Cagnano i gialloneri si sono imposti per 3 a 1 dopo una grande prova di forza con le reti siglate Danie Doppietta e Barra una vera e propria impresa contro una corazzata del torneo che sembrava invulnerabile tra le mure amiche ora è lecito sognare visto la classifica che vede distante la capolista Angri di sole 4 lunghezze in seconda categoria Gironei ancora male il Certosa di Padula sconfitto con un secco 3 a 0 sul campo del Lentiscosa continua il periodo nero dei Granata anche se questa volta c'è poco da recriminare gli avversari di turno lottano per la vittoria del torneo ed hanno chiuso la pratica già nel primo tempo con le reti di David Garofalo e Di Luca la salvezza è ancora possibile ma serve un'inversione di rotta immediata male anche il Real Pertosa nel Girone H sconfitto fuori casa dal Macchia per 3 a 2 un risultato bugiardo che ridimensiona i giallorossi reduci da una bella striscia positiva e forse già proiettati ad un qualcosa in più rispetto ad una tranquilla salvezza e con la pagina sportiva chiudiamo il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti